21. Alleato inconsapevole Domanda. Perché si è dei cattivi genitori? Guida. Perché spesso questi genitori trovano nel proprio figlio un alleato inconsapevole per dare sfogo alla propria immaturità, alla propria insoddisfazione, alla propria incostanza. Alla propria infelicità che si costruiscono da soli, come se imputassero al loro stesso figlio di essere la causa di queste loro emozioni negative. Emozioni che tali genitori provano e continueranno a provare finché non riusciranno ad amare veramente anche soltanto la loro piccola creatura. Grazie. 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 Grazie.